Allora, con mister Manoni visibilmente deluso, forse non per il risultato perché perdere all'Aquila ci sta, ma forse perché si aspettava qualcosa di diverso, anche sotto l'aspetto della cattiveria agonistica. No, deluso perché io sono un tipo che a me non piace perdere, a prescindere da due giochi, quindi è normale che quando succede questo un po' di amarezza c'è, ma ripeto, non posso recriminare niente ragazzi, anche il primo tempo che comunque eravamo un po' in difficoltà, come ho detto i suoi colleghi, magari su delle situazioni tattiche, che ripeto, mi prendo la piena responsabilità. Ma anche lì i ragazzi hanno dato tutto, hanno cercato di combattere una squadra forte, di grossa qualità, allenata molto bene, quindi faccio anche i complimenti al mister perché, a prescindere che lo conosco, sta facendo un ottimo lavoro. Però il secondo tempo, ripeto, è una squadra che ha giocato alla pari con l'Aquila, nonostante quello che ho detto prima, che è comunque una squadra di alta qualità, l'Aquila, a tutto il punto di vista caratteriale e del punto di vista dell'atteggiamento. Ripeto, i ragazzi hanno fatto, secondo me, quello che dovevamo fare, hanno dato tutto, non hanno mai mollato, anche nei momenti di difficoltà, e queste sono cose che sicuramente mi fa ben sperare per il proseguo di questo campionato e per il raggiungimento del nostro obiettivo, che è la salvezza e sicuramente con questo spirito e con questo atteggiamento, con questa volontà, con questa unione, la raggiungeremo. Mister, nel primo quarto d'ora, fascia destra d'attacco dell'Aquila, la vostra ovviamente sinistra, c'erano state tanti avvisaglie, tanti campanelli d'allarme, qualche spia non si è accesa, poteva secondo lei correre ai ripari prima, poi al ventesimo è arrivato un gol, diciamo quasi fotocopia rispetto alle azioni precedenti. Lei si rimprovera questo quando dice che è anche mia responsabilità? Mi rimprovero di aver messo, magari nella prima parte della partita, la squadra un po' in difficoltà, ma ripeto, si può cadere, ma l'importante è come ci si rialza. Noi ci siamo rialzati bene anche durante il match, quindi è una squadra, e ne sono orgoglioso di questo, perché è un gruppo che conosco da poco, ma sento proprio il profumo di un gruppo solido, tosto, che vuole raggiungere tutti i costi l'obiettivo. Le ultime due analisi, prima di lasciarla andare, la prossima il calendario mette di fronte la prima della classe, e quindi già questo è complicato. Dopodiché le chiedo se a fine partita sotto la curva dei tifosi c'è stato un chiarimento, se questo hanno chiesto i supporters Granata, oppure se siete andati lì per prendere gli applausi e i complimenti. No, è normale, è consuetudine magari andare a ringraziare le persone che fanno chilometri per seguire questa squadra, non c'è stato nessun tipo di chiarimento, ci andiamo quando vinciamo, ci andiamo quando perdiamo, ci andiamo sempre, perché è un ringraziamento che comunque c'è gente che fa tanti chilometri per seguire questa squadra, ma dobbiamo essere tutti uniti e compatti per andare diritti al nostro obiettivo, che poi è la salvezza e sarà merito della squadra, della società, dei tifosi, della città, di tutti, perché poi più uniti stiamo e più forza prendiamo. Urbinati tutto ok, tutto tranquillo oppure qualche problemino? No, Urbinati era un po' affaticato, anche in settimana aveva accusato qualcosina, anche perché questa squadra veniva da tre partite in sette giorni, sotto il punto di vista anche, è stato molto dispendioso sia a livello fisico che a livello mentale e niente di che.